Per valorizzare il nostro territorio, le nostre imprese e i loro prodotti è stato creato il marchio QM, qualità garantita delle Marche. Con questo marchio si intende valorizzare i prodotti che corrispondono a disciplinari specifici e garantiti da autorità indipendenti. Oggi lo rilanciamo grazie ad una nuova campagna di comunicazione che ne esalterà i valori ma soprattutto rappresenterà l'unicità di questa straordinaria terra, le Marche. La tracciabilità completa, la biodiversità, l'utilizzo corretto delle risorse a nostra disposizione, la trasparenza verso i consumatori. Sono questi i valori fondanti dei prodotti a marchio QM che noi vogliamo esaltare e rilanciare in questa campagna di comunicazione. L'agroalimentare è una ricchezza fondamentale nelle Marche perché ci identifica e ci lega all'alta qualità della vita. L'investimento che stiamo facendo sulla valorizzazione delle filiere e sui prodotti racconta chi siamo, identifica i valori ma soprattutto ci rende garanti della salute e di un'alimentazione sana che mira a garantire la qualità ma anche la salute. La campagna QM è un invito a scoprire e a scegliere un futuro ad alta qualità, moderno, efficiente e sostenibile perché vogliamo costruire un futuro buono e vogliamo farlo insieme. Siamo le Marche, diamo valore alla qualità.